Come guadagnare 250 euro senza fare assolutamente nulla? Bene amici, benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse e fosse atterrato per la prima volta sul mio canale YouTube, ciao, io mi chiamo Massimo e in questo canale parliamo di business online e tecnologia. Nello specifico, in questa puntata vi voglio parlare di un, più che di business online, di come generarvi un'entrata di 250 euro senza fare assolutamente nulla. È veramente semplicissimo e adesso state bene a ascoltare tutto quello che vi dico fino alla fine, quindi guardate il video fino in fondo, di modo che se seguirete i miei passi otterrete 250 euro senza nessuno sbattimento. Allora, prima di tutto, prima di partire col video vi ricordo anzitutto di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like al video e commentate che mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube e quindi a portare sempre più contenuti, sempre migliori contenuti inerenti a business online e tecnologia. Ma ora andiamo al suodo. Come guadagnare questi 250 euro senza fare nulla? Non sto parlando di guadagnarli mensilmente, è un'entrata una tantum. La soluzione è utilizzare l'applicazione Revolut. In descrizione, nei commenti, trovate il link da utilizzare. Utilizzate il link che trovate con scritto Revolut, ok? E utilizzando questo link andrete a crearvi un conto corrente, quindi più che un conto corrente andrà a richiedere una carta fisica che vi arriverà a casa, tutto gratuitamente. Ci può essere qualche spesa di spedizione per la carta, ma nulla di eclatante. Dunque, l'iscrizione a Revolut è gratuita. Fate l'iscrizione, nel frattempo vi arriva la carta fisica a casa. Ricaricate, o collegate un conto corrente già a vostra disposizione, e ricaricate comunque questa carta, di modo che possiate comunque fare, dovrete fare almeno tre pagamenti da 5 euro l'uno almeno. Una volta fatti questi tre pagamenti potrete tranquillamente invitare altri cinque amici a iscriversi a Revolut con il vostro link di affiliazione. E per ogni amico che si iscriverà e farà tutti i passaggi che avrete fatto voi, incluso la verifica dell'identità, il collegamento di un conto corrente, e tre acquisti da almeno 5 euro l'uno, otterrete 50 euro per ogni amico che effettuerà tutte queste cose, per un massimo di cinque amici. Quindi in totale sono 5 per 50, 250 euro, che avrete ottenuto in maniera molto semplice. Tenete presente, ora ve lo mostro. Allora, andiamo a prendere il portale. Eccoci qua. Questo è il portale di Revolut, vi registrate tranquillamente col numero di cellulare, infatti dice, attiene un link per eseguire il download, quindi inserisci il numero, ti arriva il link via sms per scaricare l'app, oppure andate direttamente sul vostro App Store o sul Play Store se siete con Android, scaricate l'app Revolut, vi registrate in pochi clic, tra l'altro adesso c'è in promozione che ricevete i primi tre mesi di premium gratuitamente, vi permette di spendere, inviare denaro, avete anche un codice IBAN che vi viene attribuito senza problemi, e quindi è molto 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 comodo, in più avete questa carta, ed è molto utile anche se andate all'estero questa carta, quindi vedete, copriamo tutte le necessità dell'antiviaggio, carta multivaluta, assicurazione, alloggio, è molto utile anche per chi viaggia questa carta, ok? E ovviamente potete spendere all'estero nella valuta locale al tasso di cambio reale, e in più avete dei pass per il launch aeroportuali che non è male, non è assolutamente male. Ovviamente si può inviare molto facilmente e in modo immediato denaro tra i vari conti Revolut con i vostri amici, ovviamente c'è una sicurezza di criptografia super avanzata, quindi è un sistema a tutti gli effetti sicuro, e niente, iscrivetevi a questa piattaforma, perché otterrete, come vi dicevo, seguendo le procedure che vi ho indicato, riuscirete a guadagnare fino a 250 euro, fino a 5 amici, poi magari, raggiunto questo limite, col tempo poi vi si sbloccherà la possibilità di effettuare altri inviti, quindi potrete poi guadagnare altri soldi, quindi lo fate una, due, tre, quattro volte, potete guadagnare 1000, 2000 euro, intanto iniziatevi, guadagnate questi 250 euro, così, in maniera quasi del tutto gratuita, quindi voglio dire, approfittatene, approfittatene, approfittatene. Vi ricordo, ragazzi, amici, di iscrivervi al canale, attivate la campanellina per le notifiche, così ogni qualvolta ho qualche dritta su come guadagnare soldi online, fare business online, o questi micro guadagni online, vi arriverà la notifica, potrete andare a vedere il video e applicare tutti i consigli che vi do, ok? iscrivetevi, attivate la campanellina e mettete un like, così mi supportate, che a voi non costa nulla, ma mi fate davvero un grosso favorone. E niente, direi che per questo video è tutto, io vi ringrazio di avermi seguito in questo piccolo tutorial, noi ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!